Il circo di Mosca ha presentato anche nelle maggiori città ungherisi i suoi numeri famosi equilibristi, fantasisti comici, contorsioniste e ballerine. Il fascino antico del circo non muore mai, specialmente quando è lo Stato a sanare il deficit degli incassi come nel caso del complesso Moscovita. Applauditissimi come sempre gli orsi ammaestrati, i docili plantigradi, sanno fare di tutto. Sono dei motociclisti di classe. Lo spettacolo si conclude con un esercizio che dovrebbe insegnare qualcosa a tutti i mariti ungheresi e anche ai nostri naturalmente, piatti su piatti, via! Il servizio da 24 è salvo!